Calcio che passione! In tutte le forme, di tutte le categorie, giocato o tifato, il calcio è l'hobby preferito dei Lombardi. Lo dice una ricerca della Camera di Commercio di Milano. Nel 2011 in Lombardia ci sono stati oltre 33.000 spettacoli sportivi per un volume d'affari di 392 milioni di euro. Il calcio primeggia con il 76% degli eventi, l'80% degli ingressi e l'82% della spesa al botteghino. Dalla Serie A con introiti da capogiro alle partite di calcetto tra amici, i Lombardi hanno il cuore nel pallone. Per passatempo comodamente seduti a guardare o spirito agonistico o attenzione alla salute tenendosi allenati, ogni ragione è valida. In Lombardia cresce la voglia di sport in generale. Secondo i dati della Camera di Commercio Meneghina, la crescita annuale delle sedi di imprese legate alle attività sportive è del 4,9%, ben 2.946 su tutto il territorio regionale, il 13,8% del totale nazionale. Al primo posto Svetta Milano con 901 imprese, segue Brescia con 559 e Bergamo è al terzo posto con 382, il 13% del totale regionale. Ma se si confronta il numero di società sportive con la densità della popolazione, ecco che Bergamo primeggia con un rapporto di 1 su 2.900. Secondi per spesa al botteghino risultano gli sport di squadra diversi dal calcio, basket e pallavolo in primis. Seguono poi i volumi d'affari legati agli sport individuali con un 11,6%. Il ciclismo la fa da padrone ma muovono la passione sportiva dei Lombardi anche il tennis, lo sci, la box, l'atletica, le arti marziali e l'equitazione, in questo caso soprattutto praticati.